buongiorno oh buongiorno si accomodi voi avete come le posterate la vostra testa è sistemata noi praticiamo tutti i tagli, a forbici, a rassoio, a domicilio facciamo di tutto pedicure maniche o semplici e con smalto sua barba, a taglio raso, taglio quadro, alla Gesù Cristo, d'Artagnan, da Barboni e da Sonsoni tu dici cosa vuoi e io faccio a chi mi devo rivolgere per quel posto di sceriffo? ah beh, io... perché tu vorresti fare lo sceriffo qui a Monroe? beh, pensavo fatti guardare non andresti mica male per noi vero fratelli? vero fratelli zitto tu è solo che noi cerchiamo uno sceriffo più... profumato buoni no più... come dire? pulito noi lo vogliamo più... no, no, no è che noi vogliamo uno sceriffo più... più che fratello elegante ecco, noi cerchiamo uno sceriffo più elegante e tu invece sei un disastro ma guardati con le bretelle e la cintura insieme beh, io lo faccio per una questione di prudenza sì? sì, sì perché è pericoloso andare in giro solo con la cintura fuori calzoni fuori calzoni fuori calzoni fuori calzoni fuori calzoni allora per quel posto di sceriffo dove devo andare? uscendo la seconda a destra giri intorno al palazzo troverà Radio Monroe e deve chiedere di mister Howard grazie